Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene, benvenuti o bentornati sul mio canale. Mi chiamo Marina, sono brasiliana e qui parlo principalmente della mia passione per la lingua italiana, condivido un po' della mia quotidianità e cerco di darvi consigli utili per migliorare il vostro italiano e per esercitarlo. Mesi fa ho pubblicato un video intitolato Canale YouTube per migliorare il vostro italiano e ho pensato di registrare una nuova puntata su questo argomento perché nel frattempo ho scoperto altri creatori di contenuti che secondo me fanno un lavoro interessante e meritano il nostro sostegno e il nostro supporto. Ci tengo a precisare che vi parlerò di canali creati da italiani e che non hanno lo scopo di insegnare la lingua, anzi, sono canali pensati per i parlanti in madrelingua, sono di diversa varietà e secondo me sono fatti bene e molto utili per migliorare la nostra conoscenza dell'italiano parlato. YouTube è molto utile per fare un'immersione nella lingua che stiamo imparando, nel nostro caso l'italiano, perché qui troviamo contenuti gratuiti e autentici che ci permettono di capire come parlano gli italiani. Quindi io sono sempre alla ricerca di nuovi canali, nuovi contenuti e se avete qualcosa da consegnare potete lasciare un commento qui sotto, io vi leggerò con grande piacere. Bene, prima di entrare nel vivo di questo video vi ricordo che se volete sostenermi potete lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Detto ciò, passiamo subito al primo canale di cui vi voglio parlare, che è Etty Aviation. Io sono un'appassionata di aerei e ho maratonato le puntate, l'ho scoperto giorni fa e ho già guardato tutti i video. Il canale è stato creato a luglio, se non ricordo male, sta crescendo tantissimo, perché affronta argomenti molto interessanti, parla di incidenti aerei. Cosa è successo tecnicamente, quali sono state le conseguenze nell'aviazione e cosa si può fare per evitare altri incidenti simili. Ve lo sconsiglio ovviamente se siete sensibili, se avete paura di volare, perché qui troverete storie assurde, in alcuni casi purtroppo con perdite di vita umane. Se invece l'argomento vi incuriosisce, se volete imparare nuove parole ed espressioni che riguardano l'aviazione, questo canale potrebbe fare il caso vostro. E se l'argomento aviazione vi interessa, ma cercate contenuti più leggeri, diciamo, vi consiglio di seguire il canale di Pasquale. Onaira, un canale molto grande, più famoso, creato per trasmettere la passione e le conoscenze che nel corso del tempo Pasquale ha potuto acquisire nell'ambito dell'aeronautica civile. Qui troverete video su argomenti come dietro le quinte di ritardi aerei, i rumori e suoni che potrete ascoltare durante un volo in aereo, i loro significati, cosa fa un istruttore di volo, come diventare piloti professionisti e chi più ne ha più ne metta. Allora, cambiamo argomento, parliamo di viaggi. Non solo in aereo, ma in treno, in auto e via dicendo. Volevo consegnarvi il canale di due italiani che viaggiano il mondo con i loro zaini. Sto parlando di Sara e Paolo. Loro sono molto simpatici e fanno video benissimo, con molta cura. Le immagini sono un mozzafiato ed è praticamente impossibile guardare i loro video e non aver voglia di fare le valigie e partire alla scoperta di nuovi luoghi. I miei preferiti sono quelli girati in Italia e penso che piaceranno anche a voi. Appena termino di vedere i loro video, non vedo l'ora di vedere il prossimo. Mi hanno creato dipendenza, quella sana ovviamente, quella piacevole. Un altro canale molto apprezzato in Italia su questo argomento è quello di Giorgio e Martina. Un viaggio col tubo. Sono una coppia di architetti laureati al Politecnico di Milano e fanno video ispirazionali su YouTube per chi ama i viaggi. Sono videomaker professionisti e quindi la qualità tecnica dei loro video è davvero pazzesca. Sfiora la perfezione, direi. Li guardo per ore e apprezzo molto il lavoro che fanno. Il quinto canale di cui io voglio parlare riguarda le piante. Alice parla di piante da interno e di come sceglierle, curarle e vederle crescere sane e felici. Lei è un'appassionata di piante e condivide nozioni pratiche, ma soprattutto la sua grande passione per il giardinaggio. Parla di come amare le piante, conoscerle e sceglierle, prendersene cura, possa diventare un vero percorso di crescita personale. È molto interessante il modo in cui affronta l'argomento. Dice che il suo compito è quello di allenare pollici verdi. Canale numero 6 Emma Mezzadri Hansen Il canale di universitaria italo-danese che vive a Milano. Lei pubblica principalmente vlog, condivide la sua quotidianità, le sue riflessioni, il suo percorso di apprendimento, il suo percorso lavorativo, cose del genere. La seguo nel 2020 e i suoi video sono sempre molto attentici, reali, sinceri. Lei è molto spontanea, guardo i suoi video molto volentieri e li trovo molto utili per imparare come funziona l'università in Italia, lo stage. Anche per scoprire i posti da visitare a Milano, perché lei è sempre in giro per la città con le sue amiche. Un altro canale del genere che ho scoperto da poco è quello di Emilio Centorelli. Lui ha studiato ingegneria al Politecnico di Milano e si è reso conto che in realtà non vuole fare un ingegnere, vuole diventare medico. Quindi a 23 anni ha fatto il test di medicina ed è stato ammesso nel tempo libero. Diciamo, mi piace creare contenuti per YouTube e parlo sostanzialmente di università, vita da studenti, crescita personale, finanza personale, ingegneria e medicina. È un ragazzo molto in gamba e i suoi video possono essere di ispirazione a tutte le persone che hanno voglia di un cambiamento. A volte non riusciamo più a stare in una situazione che pure tempo prima avevamo desiderato e costruito. Questa sensazione fa molta paura, ma è molto comune e non ha età. Può succedere proprio a chiunque. Passiamo adesso ad un argomento che mi sta molto a cuore, cioè la lettura. Il primo canale a tema libri che vi voglio consigliare è quello di Giulia Aleffin Willow. Giulia è una ragazza ventenne, molto simpatica e estroversa che abita a Bologna, lavora nell'ambito dell'amministrazione aziendale. Sui social condivide la sua passione per la lettura, legge sostanzialmente saggi e classici e condivide le sue recensioni sia su YouTube sia su Instagram. Ha aperto una pagina Instagram durante il lockdown e ha più di 30.000 follower. È molto brava. Il canale YouTube è più recente e su questa piattaforma condivide i suoi metodi di lettura, liste di letture, fa video unboxing, insomma parla sostanzialmente di libri. Un altro canale che sto seguendo ultimamente è quello di Rachele, Rachele Fagone, una ragazza siciliana che legge soprattutto narrativa americana e condivide le sue letture qui su YouTube. Lei è dolcissima e ha una pronuncia, un accento che mi piace da morire. Potrei ascoltarla per ore, sinceramente. Adoro i suoi reading vlog, i suoi video in generale, mi ispirano molto. Ultimo ma non per importanza, il canale di Alessia, A Library. Un canale dedicato ai libri e alla letteratura, dai grandi classici alle ultime novità. Alessia vive a Bergamo e fa l'insegnante. Ha creato il canale YouTube circa due anni fa e abbiamo gusti molto simili. Di solito i libri che piacciono a lei piacciono anche a me, quindi mi fido molto delle sue recensioni. Spesso mi lascio ispirare dai suoi consigli di lettura. Allora, questo è tutto per il video di oggi. Vi ringrazio per essere state in mia compagnia anche stavolta. Spero veramente di avervi dato dei consigli utili e che vi piacciono. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Come sempre vi auguro una buona giornata, vi mando un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!